Musica Buonasera e ben trovati, edizione delle nostre ultimissime, siamo in diretta, edizione delle 22 e 30. In primo piano la cronaca, andiamo a Mesanni, dove gli agenti di polizia del locale commissariato con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Lecce, ha svolto nelle scorse ore una serie di controlli sul territorio, a margine dei quali denunciava a piede libero un mesagnese per detenzione abusiva di armi e un'automobilista per guida in stato di ebrezza alcolica, mentre ad un altro veniva ritirata la patente. Nel dettaglio, in piazza Portagrande, un mesagnese di 30 anni veniva fermato, sottoposto a perquisizione personale, poi estesa anche all'autovettura e poi appunto gli agenti trovavano all'interno le armi, ovvero due coltelli che venivano sequestrati, un coltello a serramanico con lama di 8 cm e un pugnale di 21 cm con una lama di 12 cm, ovviamente le armi sono state sequestrate. Un posto di controlli in via Brindisi invece veniva intimato, l'altra ad un'autovettura Hyundai condotta da un cinquantenne residente nella provincia di Lecce. Secondo l'accusa, il conducente, proprietario anche dell'autovettura, risultava avere la patente ritirata lo scorso dicembre per guida sotto influenza dell'alcol e per questo è stato ovviamente multato e poi denunciato per guida con patente sospesa. Andiamo avanti, ci spostiamo a Francavilla Fontana in questi giorni, vi abbiamo raccontato la strana storia del Luna Park installato all'interno dell'ente Fiera dell'Ascensione. Più volte pure abbiamo parlato del triste destino dell'ente, ma anche degli immobili di Piazza Matteotti, finiti addirittura all'asta, più volte al centro delle polemiche per la sicurezza. Ecco, proprio la sicurezza era una delle criticità principali che appunto avevano fermato l'autorizzazione da parte del Comune. Luna Park, per una settimana, pur installato, era rimasto chiuso al pubblico, è chiuso al pubblico pure questa sera, ma qualcosa è cambiato nelle scorse ore e domani il Luna Park sarà regolarmente aperto. Guardate. Ci sono le autorizzazioni, c'è quindi la ragionevole certezza di un'area sicura al netto delle prescrizioni e dei paletti imposti dal Comune e dall'Ufficio Tecnico. Sì, al Luna Park, alla Fiera dell'Ascensione di Francavilla Fontana, con giostre già installate da una settimana, eppure è rimasto chiuso al pubblico. Il motivo? Dubbi legati alla sicurezza dell'area, la discussa area di Piazza Matteotti, che ospita i locali dell'ente Fiera dell'Ascensione. Proprio nelle scorse settimane si era acceso il dibattito su quelli immobili, ritenuti poco sicuri, con infiltrazioni e pensiline cadenti da anni in stato di semiabbandono, saltoreamente ripuliti per eventi occasionali. E ancora, a causa dei debiti contratti dell'ente Fiera, persino finiti all'asta con l'amministrazione comunale, che lavora per acquistare una minima parte dell'area che non è di sua proprietà, poi appunto il Luna Park. Il no alle giostre era arrivato dopo la loro installazione, con una procedura rimasta aperta fino al tardo pomeriggio di giovedì, quando la Commissione Pubblico Spettacolo ha dato parere favorevole, aprendo così all'autorizzazione tanto attesa. Una tradizione, quella delle giostre di Carnevale, che a Francavilla dura da anni, decenni, da quando la Fiera dell'Ascensione, oggi di liquidazione, non era stata bollata come ente inutile altri tempi. Tutta un'altra storia. Flash di giudiziare con il Tribunale del Riesame di Bari, che ha confermato gli arresti domiciliari per Marco e Gianluca Giacobini, padre e figlio rispettivamente ex Presidente ed ex Co-direttore della Banca Popolare di Bari, mentre ha revocato la misura cautelare dei domiciliari per Elia Circelli, responsabile della funzione bilancio dell'Istituto di Credito, misura sostituita con quella interdittiva. La decisione dei giudici del Riesame è arrivata in serata, nel terzo pomeriggio, al termine di una lunga Camera di Consiglio, all'indomani dell'udienza durante oltre dieci ore. Andiamo avanti, parliamo di Xilella, perché arrivano quattro nuovi bandi mirati a sostenere in qualche modo un settore, quello agricolo, chiaramente minato proprio dal batterio. E' terminato oggi il ciclo di riunioni per l'appunto convocato dal Presidente della Regione, Michele Emiliano, per discutere con il partenariato sociale del decreto ministeriale sul piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. Per la Regione sono intervenuti il Direttore del Dipartimento Politiche Agricole, Gianluca Nardone, e lo stesso Presidente Emiliano. Abbiamo finito di condividere, ha commentato Emiliano a margine appunto della riunione, con tutte le organizzazioni agricole le modalità di impiego attraverso i bandi dei 300 milioni previsti dal piano anti-Xilella. Un piano nato in Puglia un anno fa con la manifestazione di Piazza Mazzini a Lecce è proseguito con due governi nazionali diversi. Abbiamo scritto la gran parte dell'ossatura del decreto qui in Puglia, insieme agli olivicoltori pugliesi. Lo abbiamo proposto al governo che, devo dire, in tempi rapidi, lo ha approvato in tempi rapidissimi. Quindi tutto secondo le previsioni. Cercheremo con questi bandi di dare ristoro a tutti gli operatori del settore, ai frantoi, agli olivicoltori, ma anche ai semplici proprietari, ha detto Emiliano e Diari, che avranno la possibilità di avere, la possibilità per l'appunto di espiantare e reimpiantare. Speriamo bene. Andiamo avanti. Andiamo a Taranto con gli incontri che proseguono all'interno del Movimento 5 Stelle in vista, ovviamente, delle regionali, ma non solo, perché si è parlato principalmente di smart economy. Guardate. Forse è l'argomento troppo moderno, ma da non sottovalutare, come sottolineano più volte, forse le delusioni fornite alla città dal partito. Di fatto la sala è semivuota alla Camera di Commercio di Taranto per l'appuntamento organizzato dal Movimento 5 Stelle su smart economy e, in particolare, imprese, sviluppo e blockchain. Uno degli incontri per il percorso che porterà alle elezioni regionali si spinge per Presidente della Ricchia. Così spiega il suo lavoro al Mise il sottosegretario Mirella Liuzzi. Come possiamo aiutare le piccole e medie imprese che non hanno al momento la capacità per investire in un contratto a lungo termine nei confronti di un innovation manager, una persona che possa portare innovazione sia nei processi aziendali, piuttosto che portare nuove possibilità tecnologiche all'interno di un'azienda tradizionale. Mettiamo un'azienda che vende pomodori. Perché io che vendo pomodori o comunque acquisto, porto a esporto pomodori, dovrei prendere a tempo pieno una persona. In questo senso abbiamo portato avanti questo tema dell'innovation manager con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro che servivano a dare una sorta di voucher alle piccole e medie imprese che si sono registrate sul sito del Mise per poter assumere come consulenti queste persone in tutta Italia che potevano portare un'innovazione nei processi aziendali o comunque un apporto tecnologico importante. Questa misura ha avuto un enorme successo. Lo vedete dai dati perché si sono registrati 8956 innovation manager. Andiamo avanti, ma restiamo in ambito pentastellato con il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Mario Conca che ha voluto commentare in maniera piuttosto dura la decisione del capo politico del Movimento di impedirgli di candidarsi nuovamente alle prossime elezioni regionali. La mail ricevuta questa mattina non, dice Conca, riporta valide giustificazioni, comprende il loro imbarazzo, le motivazioni vere non possono essere cristallizzate in uno scritto ma non fantasticate troppo, non ce ne sono di credibili. Ci sarà tempo per commentare quanto ha corso oggi, non certo per me un fulmine a ciel sereno, ha detto Conca. Ma la decisione di escludere Conca è stata condivisa da Antonella Laricchia, candidata presidente del Movimento 5 Stelle, proprio Laricchia e Conca si sono confrontati a gennaio in un ballottaggio per la scelta del candidato pentastrellato. Secondo indiscrezioni potrebbe configurarsi la possibilità di presentare ricorso perché Conca era stato giudicato idoneo in qualità di candidato presidente, altrimenti non sarebbe neanche giunto al ballottaggio, non spiegandosi dunque l'esclusione in qualità di candidato consigliere. Rientriamo in studio, lo facciamo solo per dare la linea a quella che gli appassionati chiamano Magia Nintendo, guardate. Mamma mia che storia, da Kyoto, Giappone, fino a conquistare tutto il mondo occidentale, dalle prime carte da gioco, poi Zelda e Super Mario, per una storia che bit dopo bit continua a stupire intere generazioni. Da Kyoto, Giappone, fino a Bari, nella sede dell'associazione Apulia Retro Computing, si sono celebrate le età di Nintendo, la corporation che salvò videogame, letteralmente. Dopo la grande crisi degli anni Ottanta, la società fondata un secolo prima da Fusajiro Yamuchi, ha contribuito in maniera essenziale a sviluppare una cultura del videogioco, pure ad innalzare il media non più prodotto per bambini, ma vera e propria opera d'arte. I relatori di Apulia Retro Computing, supportati dal real hardware con le console e i titoli prodotti dalla casa giapponese, hanno raccontato l'evoluzione di una società di videogiochi, del videogioco stesso, dell'arte, quella vera, tradotta attraverso suoni, immagini, pixel, di quella magia che da Kyoto, Giappone, riuscì a conquistare il mondo intero e a risollevare un intero mercato. Ed è una bella magia anche il traguardo raggiunto da Nonna Alicia, per lei 100 candeline, guardate. Taranto ha la sua centenaria, Nonna Felicia, Alicia per tutti, ha festeggiato tra l'affetto dei suoi parenti il centesimo compleanno, un evento celebrato con la presenza del vice sindaco di Taranto, Paolo Castronovi, il quale ha consegnato alla nonnina una pergamena del comune ionico. Vice sindaco Castronovi, Taranto festeggia una centenaria. È un bel evento, non siamo abituati personalmente, è la prima volta che lo faccio, però sono venuto volentieri a portare gli auguri dell'amministrazione a Nonna Alicia, la signora Sorrentino, che oggi compie i suoi cento anni, con l'augurio di vederla fra dieci anni e festeggiare i centodici. Lo speriamo tutti. Nonna Alicia, nata il 20 febbraio del 1920, ha cinque figli ed una nutrita schiera di nipoti. Ha vissuto la sua vita dedicandosi completamente alla famiglia. Una curiosità, nel suo pranzo non manca mai mezzo bicchiere di buon vino, forse è proprio questo il segreto della sua longevità, vive nel capologo ionico a Rione Solito Corvisea. E allora, tanti auguri a Nonna Alicia e invece a voi grazie, tanti grazie per averci seguito. L'informazione torna in diretta domani mattina con sempre alle 7 in punto, rassegna stampa, poi prima edizione del nostro tre giornale. È davvero tutto per questa sera, io vi auguro un buon proseguimento e una buona notte. Grazie a tutti.